Abbiate il coraggio di denunciare questo l'appello del comandante provinciale dei carabinieri di Avellino Massimo Cagnazzo relativo all'inchiesta sulle Baby Squillo in un circolo nel pieno centro di Avellino. Il colonnello ha ribadito che l'inchiesta è ormai chiusa ma c'è il dubbio che le vittime costrette alla prostituzione siano più di quelle accertate fino alla conclusione delle indagini. Cagnazzo che questa mattina ha presentato il calendario e l'agenda dell'arma per l'anno 2018 lancia un appello alle ragazzine ma indirettamente anche ai genitori. Diciamo il quadro dell'investigativo è già completo è ovvio che aspettiamo e mi riferisco all'appello che ha fatto l'arma dei carabinieri magari se ci dovessero essere altre giovani studentesse o comunque giovani ragazzi di rivolgersi all'arma dei carabinieri per liberarsi magari da un peso che li accompagna anche da qualche anno. L'inchiesta ha portato all'arresto di tre persone il titolare della sala giochi di via vasto un settantenne e altri due suoi complici un 85enne di lapio e un cinquantenne del capoluogo per tutti e tre sono scattati gli arresti misura cautelare confermata dal gip in sede di interrogatorio. I dettagli emersi dalle indagini sono scioccanti determinanti sono state le confessioni delle ragazzine che si prostituivano a seconda di un tariffario che andava dai 10 ai 100 euro e costrette a vestirsi con abiti succinti e servire ai tavoli con atteggiamenti ammiccanti.